le macchinine colorate e la torta scomparsa passa la palla blocch e lancia eccomi il calcio, ma la palla deve ribalzare ogni volta sul tetto delle macchinine il rimbalzo questa volta ha mandato la palla verso la vasca di palline colorate c'è una base di una torta ci sono delle briciole ma dov'è la torta? andiamo a cercarla tutti insieme? in mezzo alle palline colorate la macchinina gialla dà una mano alla rossa e le altre cercano altrove no, qui nessuna torta oh oh, un pallone! facciamo due tiri? no, mettiamolo con gli altri e continuiamo a cercare macchinina verde? forse è nascosta lì dentro? amiche, venite presto! spostiamo questi blocchi uno alla volta forse nascondono la torta no, niente in compenso stiamo mettendo in ordine i blocchi ecco, più è ordinato e più sarà facile trovare la torta macchinina blu riesce a vederla dalla sopra? no un momento sospendiamo le ricerche macchinine, guardate i fiori sono appassiti hanno bisogno di acqua prendiamo gli annappiatoi oh oh, quanta sete questi fiori tornano a sorridere felici con i loro splendidi colori grazie macchinine ma della torta nessuna traccia no, guardate queste sono briciole mi portano a questi blocchi verdi ehi macchinine! postiamo i blocchi come formichine le nostre amiche stanno liberando l'ingresso della rivessa che sorpresa! la macchinina nera si era nascosta qui e c'è anche la torta è stata lei a prenderla non è la tua torta di compleanno non devi prendere le cose che non ti appartengono lo farai più? non la porterai più via? ti perdoniamo e la prossima sarà una puntata super divertente a presto! ciao! 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 ciao!